Il settore dell'avvocatura sta attraversando un momento delicatissimo, occorre mettere in campo tutte le azioni a difesa della professione forense, pochi gli studi legali che riescono a sopravvivere. A parlare di mondo dell'avvocatura in stato comatoso e per tutta una serie di ragioni è oggi al nostro telegiornale l'avvocato Filippo Marciante, recentemente eletto nuovo presidente della sezione Saccenze della NAI, associazione nazionale avvocati italiani che a sciacca conta una cinquantina di iscritti e che a livello nazionale rappresenta una delle associazioni forense maggiormente radicate sul territorio italiano. Questo è il momento in cui la NAI, che è una delle associazioni che banta un altissimo numero di iscritti e tantissime sezioni in tutta Italia, sta contribuendo insieme alle istituzioni dell'avvocatura a salvaguardare, a proteggere direi ormai proprio la professione, perché la grave crisi che sta colpendo il settore ha ridotto veramente in uno stato comatoso anche persino la stessa gestione di uno studio legale. Io penso ai giovani colleghi, penso a tanti giovani che dopo la professione, impediti dalla ormai chiusura dei concorsi pubblici, si affacciano a questa professione e se lei pensa che dieci anni fa eravamo meno della metà e che vent'anni fa c'erano 20.000 avvocati, adesso siamo 240.000 avvocati, quindi lei si renderà conto che è il momento in cui non solo dobbiamo tutelare i colleghi più deboli, i colleghi più giovani, ma dobbiamo incrementare e sostenere nuove forme l'esercizio della professione di tutela di questa dignitotissima e bellissima professione come quella dell'avvocato. Cosa ha determinato questa crisi del settore forense? Tante sono le cause, sicuramente la scarsa selezione, la scarsa selezione che noi stessi dovremmo fare. Si è parlato di numero chiuso all'università e non è mai stato possibile farlo, per esempio in medicina hanno risolto i problemi con l'istituzione del numero chiuso. Noi dovremmo pensare, si dice che non è democratico il numero chiuso, invece è assolutamente un principio di rispetto di democrazia nei confronti di coloro i quali si impegnano di più. Io ritengo che i ragazzi meritevoli meritano rispetto ai ragazzi spesso che affrontano questa professione con il massimo dell'impegno, che cercano scorciatoi, che poi nella vita in genere, nella professione si pagano. Questo stato comatoso di cui lei ha parlato riguarda anche il territorio di Sciacca? Sì, certo, riguarda anche il territorio di Sciacca, riguarda il nostro distretto in genere, nel distretto di Palermo, ma sicuramente riguarda il territorio di Sciacca, perché ormai è diventato difficile, ripeto, sia per l'alto numero di professionisti che esercitano, sia per un atteggiamento punitivo, direi punitivo, da parte dell'amministrazione pubblica e anche dei privati, i quali, essendoci tanta offerta, chiaramente tendono a diminuire, facendo così una gara a ribasso nei confronti dei professionisti. Ecco le nostre battaglie per l'ecocompenso, ecco le nostre battaglie per i parametri, parlo dell'avvocatura, ecco le nostre battaglie in genere, che riguardano anche aspetti interni della professione, ma nei confronti della società, le battaglie a sostegno di questa professione, perché un avvocato deve essere un avvocato libero, deve essere un avvocato dignitoso e deve essere un avvocato in grado di svolgere al meglio la professione. Non si può cercare un avvocato per risparmiare, un medico per risparmiare, un architetto per risparmiare, se qualcuno lo vuole fare è libero di farlo, ma noi dobbiamo, a prescindere dalla nostra parcella, assicurare il massimo, perché questa professione si può fare solo se si è liberi, se si ha dignità nell'esercizio della professione e se si ama questa professione. Diversamente è meglio evitare fare altro.